Finburger Findus presenta Che invidia mi fa la gente che vive da sola? Nella nostra vita non te ne frega niente Io me lo sono fatto il mio piccolo spazio e me lo gestisco Straparli per non sentire la paura Perché hai paura? Hai paura di finire da sola? Noi uomini siamo stufi di voi! Un giorno nella vita di un uomo e di una donna Un giorno nella vita di due persone che non sono più capaci di amarsi E cercano di darsi un'altra possibilità Di ricominciare tutto da capo Maximilian Schell e Jacqueline Visset In una prima visione televisiva Amo non amo Domani alle 20.30 su Italia 7 Oggi in tutta Italia Migliaia di aziende vengono comprate e vendute Esiste un'organizzazione capace di vendere un'azienda velocemente E' tanto forte da poter finanziare chi acquista e proporre a chi vende il pagamento in contanti Azienda al market Rapidità e riservatezza in tutta Italia Azienda al market del gruppo Casamercato Un importante gruppo nazionale 6 pagine di informazione in più Il giornale L'informazione che fa opinione Cosa si beve a un party un po' magico? Ricard Fresco Insolito Magico Londrina Ricard Acqua Ghiaccio Il gioco è fatto Provalo con la menta Con l'aranciata Con la bibita che preferisci Bevilo quando vuoi qualcosa di speciale Ricard Fresco Insolito Magico Londrina Stasera Io e te Beviamo insieme Un vino un po' speciale Li vecchio piacere da offrire Un gesto di simpatia Nei momenti felici Da vivere insieme agli amici Li vecchio piacere da offrire Mil de sorte Un piacere da gustare insieme Paolo 14 anni Un ragazzo fortunato Perché può dire Mai avuto carie in vita mia Da anni Dentifricio McLeans Lavora proprio per questo Perché tutti un giorno Possono dire Mai avuto carie in vita mia Oggi McLeans Aggiunge al fuoro Il calcio in GP McLeans È un passo avanti Nella prevenzione della carie L'automobile L'errore di guida Il tamponamento La vostra sicurezza Il pericolo può cominciare Con l'impossibilità di segnalare A chi segue La vostra emergenza Per questo è stato ideato Blinky Blinky fa entrare automaticamente in azione I doppi lampeggiatori di emergenza In caso di frenata violenta O di un impatto Blinky è facile da applicare Una piccola spesa Che può assumere un valore inestimabile A chi segue da affrontare un valore inestimabile Blinky fa entrare avanti Blinky fa entrare avanti Blinky fa entrare avanti Blinky fa entrare avanti